Un tempo amavo questa città fino a quel terribile Black Friday. Sono stufa di fingere che sia tutto normale quando non lo è. No, 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 no! Qualcuno cerca vendetta e la sta trasformando in un gioco perverso. Che strano. Siamo tutti taggati e ci sono i nostri nomi sulla tavola. Ma perché noi? Più questa storia va avanti, più diventa inquietante. No, no, no! No! Mangiamo. Mangiamo. Mangiamo.